ciao a tutti vi faccio vedere la serra siamo già a maggio allora cominciamo subito con questa rugeli vediamo se si vede molto bella si vede poco la macchia eccola lì poi qui davanti un'altra pianta molto interessante sono anche i fiori questa è una pianta che non muore mai che ne scresi sempre la raffica altre vedete altra pianta che è uguale a questa questa qui c'è l'oralsunset una delle mie piante salacegne preferite questa invece è una latta nigro purpurea aspettate che giro il vaso che non si vede niente sempre di mike king anche questa eccola lì poi qui ce l'ho anche fino a kenshi c'è signori quest'anno ho sparato questo giro anche il telefono per farvi vedere è gigantesco dietro c'è una ecofilla la dietro che ha fatto solo questo per ora c'è un'altra rugeli di mike king che è gigante questa poi cosa abbiamo un'altra ecofilla altre salacegne questa è la il cartellino scusate è la 6x 149 che è un'areolata qui invece troviamo una pianta che è di cedric no scusate che è di ghert molto bella questa è una pianta che mi ha regalato daniele righetti questo è un assidio che è nato storpio eccolo la questa invece è la questa qui assidigia grandi è un aggiudaticcio per poi qui in svaniera c'è un po' di tutto non so neanche io che piante sono guardate poi c'è questo il gigante questi sono i seedling che quest'anno sono molto belli questo soprattutto il croce tra due le ecofille poi qui abbiamo la pianta quella che diventa viola che è un seedling anche lui la brov la giant red tube roata adrian slack che si sta colorando piano piano lea wilkerson per colare un altro seedling molto bello qui ci sono delle orchidee vabbè quelli sono mandarini orchidea che però si sta seccando pianta grassa queste sono le preone questa l'ho appena presa che è il non mi ricordo più dalentonia mandarini mandarini orchidea che sono fiorite lembrodium che è fiorito e cimbidium h7mk non so dove voglio andare siamo andati sulle saracenie questa è un'altra saracenia drosere tutte drosere altri 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 questi sono tutti i seedling a maggior parte anche questo che è molto bello e molto grande di un'è di un'è questa è una delle mie preferite la water wolf perché quest'anno veramente tanta roba drosere c'è un fiore le varie filiformis c'è altri seedling questo è una scommessa è riuscita un fiore con una pianta con già i fiori questa è proprio una scommessa sta crescendo in una maniera incredibile nel vaso qua in serra va bene io vi saluto ciao ciao Grazie a tutti.